Il capannone in disuso dietro la chiesa di Fossaragna, provincia di Padova, e si dirige verso l'imbarcadero del ferry boat che porta al Lido. Lì, di rotta, il ferry boat si fa sbarcare in piazza San Marco e prende da sedia il campanile su cui issa il gonfalone della Serenissima e il leone alato, subito lo Stato italiano grida i Veneti sono terroristi, il resto d'Italia risponde ma è impossibile, è impossibile, noi li conosciamo i Veneti e ho visto un sacco di film anni 50, i Veneti sono buoni, i Veneti sono buoni, sono buoni. Io sono convinto che il teatro debba servire alla società e sono convinto che serva, per cui ho cercato qual era il contributo che potevo dare io e già da anni io e Giorgio Gobbo portiamo spettacoli in giro, portavamo uno spettacolo veramente tanti anni fa che si chiamava Raise Storte. Perché ti dico questo? Perché Poiana non era ancora nato in quanto Poiana però in realtà in Raise Storte noi già facevamo questa cosa qua, cioè prendevamo in giro il tema delle radici, dell'identità di cui spesso i politici si fanno portatori e mostravamo come le radici, tutti le abbiamo però non è una roba di cui essere fieri necessariamente, oppure una roba che in qualche modo ti rende migliore di qualcun altro. Semplicemente nutre quello che sei e nutre quello che sei nel bene e nel male, per cui tu hai radici che vanno nella cronaca nera, hai radici che vanno nelle cose più belle, più nobili. Da questo spettacolo di Raise Storte, quando poi Poiana è nato, ed è nato per una serie di coincidenze, ma essendo teatranti noi non crediamo nelle coincidenze, ed è andato in televisione, allora abbiamo chiamato lo spettacolo, che comunque era sempre uno spettacolo di collage, di tanti monologhi diversi, l'abbiamo chiamato Poiana e i suoi fratelli, perché aiutava il pubblico a capire cosa andava a vedere e perché abbiamo cominciato a girare fuori dal Veneto, e quindi Raise Storte non significava niente. Però Poiana e i suoi fratelli, la cosa che mi ha toccato profondamente, è stato riconosciuto subito come un universale umano, cioè parla in dialetto, ma in realtà viene riconosciuto a Caserta come viene riconosciuto in Sardegna, e quindi siamo molto felici perché il tipo di critica che facciamo, perché quello facciamo, però viene recepito non solo come una critica al Veneto, ma una critica a un certo modo di pensare. Poi, se posso aggiungere un'ultima cosa, non amo fare le macchiette, per cui cerco di dare a questo personaggio sempre una rotondità, e quindi ogni tanto qualcuno trova inquietante il fatto che questo personaggio dica delle verità oppure dica delle cose anche condivisibili, ma è perché anche il più perfido dei cattivi comunque avrà sempre, se è veramente un essere umano, avrà sempre un aggancio nell'ascoltatore o nello spettatore. Proprio in quanto essere umano può essere interpretato in tanti modi, cioè quello che mi fa, si fa le foto perché è un cacciatore, e quindi ogni tanto parlo di fucili perché è un appassionato, poi hanno un appassionato di fucili, oppure appunto c'è quello che invece capisce perfettamente quello che è lo spirito, pur magari essendo leghista, convinto, però a volte mi dici, guarda mia, penso diverso, però te ho fai bene, c'è varietà in come viene accolto, però sì, cerco di fare sempre una roba con una sua completezza, non mi piacciono le maschere di cartone, non aiutano la comprensione della realtà, è bello avere un nemico contro cui scagliarsi, quello sì sempre, però non è utile, alla fine non ti aiuta a risolvere i problemi. La questione è sempre quella, cioè è ovvio che il cinema e la televisione viene prodotta a Roma, a Milano qualche clip, ma molto meno, però comunque sono i due centri in cui devi andare se vuoi lavorare in quell'ambito lì. Cioè va detto che invece a livello di cultura, non di cultura ma di cultura, proprio di brodo di cultura, Padova è ottima, perché grazie all'università riesce a nutrire tutta una serie di esplorazioni per cui un sacco di persone possono andare a fare corsi di teatro, di recitazione, alcune dei quali con insegnanti di ottima qualità, perché comunque c'è tutta una lobby padovana di attori e registi, che fa sì che ci sia in questo, ad esempio adesso c'è un buon movimento di attori veneti che magari non sempre, ma cercano di restare un po' nel loro territorio per poi andare ovviamente dove si lavora, perché i provini si fanno a Roma, però ce ne sono parecchi e molti cominciano ad avere anche una certa, non bisogna essere riconosciuti, soprattutto quelli giovani. Bene, Sara Lazzaro, Spollongio, tutta gente molto in gamba, però ovviamente sì, la fortuna è di aver avuto appunto un buon brodo di cultura qui, però poi ti devi spostare. Ho avuto la fortuna di prepararmi per anni facendo anche teatro e psichiatria, oltre che teatro carcere, per cui ho avuto possibilità di misurarmi con l'umanità, la grande umanità di chi soffre di questo tipo di problemi. Secondo, il lavoro di preparazione è stato sulla scrittura, perché la scrittura è eccellente, Daniele Mencarelli parla di sé quando racconta la storia di questo TSO che gli cambia la vita, e quindi è scritto veramente bene, c'è solo un attore cattivo, poteva rovinare quella cosa lì. E poi il lavoro di squadra, perché il regista è straordinario, Francesco Pruni è un regista straordinario, e c'era un'equip di attori giovani, per cui siamo rimasti molto teatralmente dentro quella stanza di ospedale. A volte c'è il set, a volte è una cosa per cui magari tu hai finito di dire le tue battute, la scena però deve essere ancora finita, tu vai via, perché hai finito. È possibile, no? Perché comunque il campo contro campo, tutte queste cose così. E invece stavolta non è successo, cioè chi aveva finito restava per lavorare insieme agli altri. Il che ha creato appunto la camerata, ha aiutato ad approfondire il lavoro ognuno sul proprio personaggio. È stato un gran bel lavoro. Ma io sono convinto di sì. Io cerco di farlo il meglio possibile, però diciamo quelli bravi facevano proprio questo dai greci antichi in poi, cioè questa cosa per cui tu vai assieme ad altri, perché quello è fondamentale, l'essere non a casa davanti a uno schermo. Io sono uno che guarda le serie, per carità non è che sto facendo il passattista. Però è vero che il teatro mantiene questa cosa che nessun altro ancora è riuscito a togliere. Ed è questa cosa di essere tutti assieme, di fare una cosa, perché il pubblico è attivo esattamente come l'attore. Certo, l'attore fa un po' più l'officiante, però senza il pubblico non farebbe niente. E assieme facciamo questo rituale, che è un rituale, anche io ne sono convinto, per alleggerire un po' il cuore, per vedersi, come dicevi anche tu, più comunità, sentirsi profondamente vulnerabili, però al tempo stesso non soli, quindi non così deboli. Se mi domandi se mi dispiace, mi è caduto il governo dei Salvini, che rispondo no, che non mi dispiace, perché prima di tutto, quella roba era sempre pesa, una pignola a Capanon, che per me era come un figlio, qua lo vediamo più in casa, le amici, i miei comprovi di niente, e io vedo quello in un grande, vestito da sbiro, che beve un mojito, e mi dicono, è il tuo governo. No, moro, no. E adesso non è via, cavate dai coglioni che ho da lavorare.